Sei stato al top stasera, cosa è scattato in te, che ti abbiamo visto proprio al massimo, scatenato? Abbiamo giocato bene tutti quanti, tutta la squadra, una grande prestazione, siamo contenti di aver preso felici i nostri tifosi, speriamo di continuare così e vediamo alla fine dove arriveremo. Il tuo ritorno ha portato la Roma a segnare molto di più rispetto a quel mese in cui sei mancato? Sì, sono felice di scorrere, quando arrivo, ovviamente sono felice di scorrere con il team e il team scorrà più gol, ma in fine, qualcuno che gioca, non darà tutto e per me sono molto felice di scorrere un altro gioco e che vediamo. Sono contento anch'io di aver ritrovato il gol, sono contento che la squadra sia segnando tanto, ma la verità è che chiunque giochi cerca di dare il massimo, di fare del proprio meglio e io personalmente mi gioisco quando segno anche un compagno di squadra. Cosa vedi di diverso rispetto all'anno scorso nell'attacco, considerando l'esplosione di Dzeko che c'era anche l'anno scorso? Sì, è un po' diverso da l'altro, il sistema è un po' diverso, ma in fine il mister ha chiesto il sistema giusto per noi e tutti hanno di fare il suo lavoro e credo che abbiamo avuto un buon risultato da questo sistema. Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, di sistema di gioco e il mister fa le scelte e ci stanno dando ottimi frutti. Grazie. Grazie. Grazie.